Ciao, sono Sara Di Crescenzio, Project Tutor per la Toscana, all'interno del progetto nazionale di associazione Nausicaa, io leggo per gli altri, dalla Puglia al Piemonte, l'onda lunga dei lettori ad alta voce. È un progetto finanziato dal CEPEL con il bando ad alta voce 2020. In puro spirito di lettura vi parlo di me presentandomi con un libro e quindi se fossi un libro sarei Miss Charity di Marriott Murail per svariati motivi, in primo luogo perché è ambientato nell'Inghilterra vittoriana, credo sia il luogo e il periodo che preferisco, e poi perché la protagonista è anticonvenzionale e infine perché vorrei essere comunque uno dei personaggi descritti da Marriott Murail che sono sempre personaggi pieni, complessi e ben descritti e quindi ecco se fossi un libro appunto sarei Miss Charity. Per quanto riguarda invece il mio ruolo all'interno di Ondalunga, mi occuperò di sostenere e anche un po' tenere insieme tutte le fantastiche iniziative che porteremo avanti da adesso fino a marzo e all'interno appunto di questo progetto mi occuperò nello specifico della regione toscana ma ovviamente con uno sguardo sempre anche alle altre regioni io e le altre project tutor siamo costantemente in contatto quindi diciamo che io sarò la faccia dietro alle mail che riceverete e sarò anche la faccia a cui rivolgersi in caso di eventuali appunto bisogni. Per salutarvi vi vorrei chiedere di unirvi al movimento e quindi se avete voglia e un po' di tempo da dedicare alla lettura ad alta voce potete contattarci e noi saremo lieti e vi aspettiamo a braccia aperte perché l'Ondalunga per essere lunga ha bisogno di tutti noi. Ciao!